Due scosse di terremoto hanno colpito la zona di Kepalawan, Batu, nell'est dell'Indonesia. Lo rende noto lo European Mediterranean Seismological Center. Il primo terremoto di magnitudo 6.1 è stato seguito poco dopo da un sisma di magnitudo 5.8. La prima scossa ha avuto epicentro a 43 km di profondità, mentre la seconda a 40 km non si hanno notizie di un'allerta tsunami.